Mi sentivo vicino alla non esistenza, semplicemente. Mi muovevo, mi scatenavo, giravo quelle stanze che conoscevo a memoria, muto, rabbioso ma incapace di uscire. Fuori infiniti sguardi, giudicanti e smaniosi di fare qualcosa, di essere qualcuno. Non fatemi uscire, non fatemi fare nulla. Chi siete? Che volete da me? Io sono solo un uomo morto che cammina. Scusi, siamo dell'Enel, ti fa entrare?